Augusta, aggressione al carcere, detenuto picchia agente penitenziario. Innesimo caso di aggressione nel carcere Megarese dove un detenuto senza nessun motivo apparente ha picchiato un agente della polizia penitenziaria nel reparto di isolamento. Lo afferma la segretaria provinciale del SIP, il sindacato del personale penitenziario. La vittima è stata trasportata all'ospedale con la fascia gonfia. Il sindacato penitenziario SIP fa appello alle autorità competenti e condanna l'ennesima aggressione verso il personale di polizia penitenziaria, sottolineando che tali episodi spesso non ricevono la dovuta attenzione mediatica. Il SIP peraltro critica la gestione dell'amministrazione penitenziaria affermando che nella casa di reclusione di Augusta tutto sembra essere diventato normale e tollerabile. Il SIP afferma di aver fatto tutto il possibile per tutelare il personale penitenziario di fronte a queste situazioni.